Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video 5 delle cose che più vi danno fastidio durante la vostra, nostra quotidianità Carmelo, chiocciola, carmenomaizano.com è l'indirizzo al quale potete scrivere Partiamo con la numero 1 La carta igienica quando finisce, un dramma Numero 2 La rotellina del browser che ci fa attendere lì con gli occhi sul computer Al numero 3 il cavetto delle cuffie dell'iPhone Sempre lì attorcigliato e grovigliato Al numero 4 abbiamo i guantini del benzinaio Aprirli diventa veramente una cosa difficilissima Numero 5 delle cose che più ci danno fastidio è l'acqua della pasta quando bolle Aspettiamo per 10 minuti guardando l'acqua Però appena ci giriamo Alla prossima amici con tante cose che mi segnalerete voi